La sezione della Polizia Stradale di Ragusa, sotto le direttive del vicequestore Gaetano Di Mauro, ha effettuato due sequestri preventivi nello stesso capoluogo. Si tratta di una Ferrari di grossa cilindrata, una Ferrari F599, di un escavatore. Per quanto riguarda il segresto dell'autovettura, è stato disposto dal Tribunale di Ragusa per il reato di appropriazione in debita. Il bolide, infatti, dal valore di oltre 250 mila euro, era stato acquistato da un professionista originario del Siracusano, che aveva contratto un finanziamento per l'acquisto del mezzo da rimborsare in 60 rate, dopo avere pagato le prime, però non ha più pagato le restanti rate, trattenendo l'autovettura nonostante varie diffide che gli erano state indirizzate alla società finanziaria. Dopo successiva certamente, la Ferrari è stata rintracciata e sequestrata presso un autosalone di Ragusa, che ne stava trattando la vendita. Allo stesso tempo, su disposizione del Tribunale Ibleo, gli agenti hanno proceduto anche al sequestro preventivo di un grosso escavatore del valore di oltre 200 mila euro, a carico di una ditta ragusana che si occupa di movimento terra. Anche in questo caso, il titolare della ditta, non avendo più pagato l'errate del finanziamento, è stato denunciato per appropriazione in debita.